In stazione, a detta di tutti, la priorità è migliorare la sicurezza, l'ho sottolineato anche il prefetto in persona. In pratica però la situazione rimane critica e le ultime modifiche alla viabilità, in particolare in via Bixio e via Cairoli, decise dall'amministrazione Giordani, sono messe in discussione dai sindacati di polizia. Tanto per cominciare, in quel dedalo di vie affollato di spacciatori, gli ingressi sono calati da 4 a 3 e i pusher ringraziano. La risposta è molto semplice, prima erano 4 gli accessi, ora sono 3, inevitabilmente un minimo di aiuto in più per i pusher è stato dato, ma questo non significa che per quanto riguarda l'attività di prevenzione e contrasto da parte delle forze dell'ordine ci siano state delle ripercussioni. Scelte, quelle di Palazzo Moroni, che i rappresentanti dei poliziotti avrebbero voluto fossero condivise. È evidente che il loro impegno rimane massimo e che il controllo del territorio non ha sacche di impunità, però queste scelte sono state calate dall'alto, chi opera sul territorio conosce bene i problemi della stazione. Sicuramente non hanno partecipato queste scelte alla prefettura o al questore, è molto semplice intuirlo che il comune avrà fatto le proprie scelte senza partecipare ai rappresentanti delle forze di polizia, quelle che erano magari scelte da condividere. Quanto al controllo della città, suddivisa in zone, gli agenti sottolineano l'ottimo coordinamento tra forze dell'ordine, il problema semmai è di organico. È una carenza di organico che oramai è alla luce dei fatti cronico per quanto riguarda l'ufficio sezione volante in particolare. La questura dunque ha bisogno di uomini e la città di scelte sulla sicurezza che in particolare alla stazione coinvolgano di più chi in quella zona ci vive e ci lavora.